Nessuna traccia di totem luminosi alla stazione ferroviaria di Sulmona. I tabelloni luminosi, che servono a comunicare gli orari di arrivo e partenza dei treni, dovevano essere installati entro il mese di giugno. Un intervento programmato da RFI è comunicato, dietro sollecitazione, al Comitato Sulmona a stazione di Sulmona. In una missiva, in effetti, il Comitato aveva chiesto l'installazione di totem luminosi e informativi per guidare gli utenti all'interno della stazione e poter raggiungere rapidamente il proprio convoglio sui quattro binari. I lavori di fatto non sono ancora partiti, rileva il portavoce del Comitato, Antonio Menchinelli. La nostra speranza è di avere totem luminosi entro la fine dell'anno. Tra qualche giorno partirà un nuovo sollecito da parte del Comitato a RFI. Scriveremo nuovamente per capire i ritardi eventuali che ci sono stati. Probabilmente dovrebbe essere la gara d'appalto nazionale, in cui rientrava pure la nostra stazione, che ancora non viene aggiudicata e quindi sono questi ritardi e entro l'estate dovrebbero essere risolti. L'attivazione dei totem luminosi alla stazione è una delle richieste che arriva dai passeggeri e dai turisti che spesso si trovano disorientati.